Rafa Leao di testa, Rebic prova da girare, Rebic, 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 l'azione prosegue, Teo, 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 Palo, grande azione nostra, Palo di Teo Hernández, palla messa in mezzo, il colpo di testa, il gol, il gol di Olivier Giroud, Olivier Giroud, la girata giusta. Leao la mette giù e poi innesca Teo, ecco Teo, ecco l'attraversata del Teo, ecco l'attraversata del Teo, la scorribanda del Teo, la scorribanda del Teo, la scorribanda del Teo, la parata, gol, Olivier Giroud. No, fuori gioco, dannazione fuori gioco, il cross di Rebic, Giroud di testa, Krunic, gol, ha segnato Rade, mani sul cuore sotto la curva, Rade Krunic, 2 a 0 per noi, 2 a 0 per noi, 2 a 0 per noi. Eccolo Rafa, si ferma, viene in mezzo, Rafa, 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 da un pezzo dell'aria all'altro, il cross, la palla, porta vuota, Giroud, gol, ha segnato Giroud, ancora, Olivier Giroud, Olivier Giroud, Olivier Giroud, Olivier Giroud. Isma Benna, la palla splendida col contagiri per Teo, 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 Leao, traversa, 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 traversa di Rafa. Ecco Messias, innescato da Olivier, ancora Messias, sale di rigore, Messias, 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 il gol di Junior Messias, che ha segnato a Torino e segna anche stasera, Junior Messias. E' grande Milan, ce l'abbiamo fatta ragazzi, ce l'abbiamo fatta.